Nel pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato appartenente alla sezione Falchi della squadra mobile di Salerno è intervenuto in via Benedetto Croce a Salerno procedendo al sequestro di un'abitazione adibita al luogo di esercizio della prostituzione, da cui traeva profitto una terza persona affidataria dell'appartamento. La persona occupante aveva pubblicizzato le sue qualità di prostituta transessuale con specificato numero di telefono. Il soggetto in questione un colombiano classe 1990 aveva ricevuto in affidamento l'appartamento da un salernitano di 50 anni che si faceva versare il guadagno giornaliero. L'uomo è stato denunciato per favoreggiamento, reclutamento e sfruttamento della prostituzione.